Il centro cittadino con la mongolfiera di Molfetta si chiama Sliding Doors ed è l'originale iniziativa del centro commerciale per inaugurare la stagione dei saldi. Vediamo. Una porta rossa nel bel bezzo di via Sparano, una porta che accorcia le distanze tra il centro cittadino e un luogo misterioso. Tanti curiosi che a prendola si sono trovati di fronte ad artisti di strada, mimi e modelle che come in uno specchio replicavano ogni loro mossa. Si tratta di Sliding Doors, l'attività di guerriglia marketing messa in campo dal centro commerciale Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta per invitare i baresi ad approfittare dei saldi cominciati ufficialmente questa mattina. L'idea messa in atto non solo a Bari ma anche nelle principali piazze di Barletta, Giovinazzo, Bisceglie e Traniandria, dalle prime ore del mattino ha catalizzato l'attenzione di centinaia di curiosi che dopo aver aperto la porta si sono trovati catapultati nel centro commerciale grazie ad un semplice collegamento Skype. La divertente iniziativa non è certo la prima messa in campo dalla Mongolfiera di Molfetta che ogni anno sceglie un modo originale per aprire le porte, oggi in maniera letterale, ai saldi di stagione.